Concorso per l'Accademia Aeronautica Open Day alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Due Bentornati con le notizie di Videonews L'Aeronautica Militare ogni anno offre tante nuove opportunità di lavoro per i giovani Proprio nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato il nuovo bando di concorso per l'arruolamento in Accademia Aeronautica Per le informazioni di dettaglio sul numero dei posti e di requisiti per partecipare potete seguirci sulle nostre pagine social o sulla pagina dei concorsi online del Ministero della Difesa nella sezione Aeronautica Militare La Scuola Militare Aeronautica Giulio Due il nostro istituto di istruzione secondaria di secondo grado che ha sede a Firenze ha previsto nelle date 29 gennaio, 12 e 25 febbraio, 12 e 25 marzo e 15 aprile l'apertura al pubblico per dare la possibilità a chi fosse interessato di visitare l'istituto ed illustrare tutte le attività che gli allievi svolgono nella scuola Si può prenotare l'ingresso direttamente dalla pagina della scuola sul sito web dell'Aeronautica Militare Video News termina qui Come sempre grazie per essere stati ancora con noi Vi diamo appuntamento alla prossima settimana